Buongiorno e bentrovati all'ultimo Appuntamento della settimana con Mattino 6 La nostra rassegna stampa Iniziamo subito dai quotidiani regionali Dalle prime pagine Partiamo dal centro Questa è la prima dell'edizione di Pescara Notte bianca via la grande festa Si parte alle 21 Confermati tutti i big Ma c'è l'incognita del maltempo E poi nelle cronache I voli da Pescara Idea Ryanair Proposte 7 nuove rotte Poi a Mantua Walter Tosto compra Belleli Energy Blitz negli stabilimenti Poi in As Chiudono due ristoranti sul lungomare Ancora il ministro No al progetto Toto Variante bocciata Solo manutenzione Sulla A24 e sulla A25 La replica Così le tariffe saranno più care Poi a centro pagina La fotonotizia Stasera l'amichevole a Cassetti Sangro Il Pescara sfida Il Selta Vigo Mercato Intanto si stringe per Gaston Silva Tra preparazione e calciomercato Sono giorni intensi per il Pescara di Mister Oddo Dopo l'arrivo del difensore ungherese Guzmix I dirigenti stanno stringendo per Silva Centrale del Torino e della nazionale uruguaiana Intanto stasera a Castelli Sangro C'è l'amichevole contro il Selta di Vigo E se restiamo sempre allo sport Perché nel Buongiorno Abruzzo Firmato da Rocco Coletti Si parla di Olimpiadi Che hanno preso il via questa notte Per quanto riguarda l'ora italiana Con la cerimonia di inaugurazione Via le Olimpiadi Il sogno di due abruzzesi A Rio de Janeiro Andiamo nello spazio delle idee Richiami dal nazionale Rai lottizzati Ma almeno di Serie A E l'articolo di Bruno Manfellotto Sulle polemiche per le nomine Da parte della maggioranza di governo All'interno della Rai E poi i rifugiati E il ricatto del Sultano E un articolo che racconta un po' La situazione in Turchia Dopo il golpe fallito Andiamo avanti adesso Con la lettura del centro E passiamo alla prima pagina Dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto Titolo di apertura Walter Tosto compra Belleli Energy Chieti L'azienda sbarca nel Mantovano Un affare da 5 milioni Negli idrocarburi Nelle cronache di spalla Ex impiegato a San Salvo In Vasto Marche Fasulle in comune Deve risarcire Poi ancora dalle cronache Vastesi Ex giunta nei guai Spettacoli estivi L'assessore indagato Lasci E in Lanciano Centro storico ZTL nel caos Oltre 700 le multe In pochi giorni A centropagina L'artista che coltivava droga Per curarsi Nella fotonotizia Chieti scatta La mobilitazione Per il farmaco gratis A Pellegrini Dai senatori Melilla Pezzopane E Manconi Che hanno chiesto Al sindaco di Chieti Alla regione Di Dalli Sistemazioni e cure adeguate Alla voce Dei Maruccini Che raccoglie fondi Per far tornare L'artista A dipingere La mobilitazione Nata attorno A Fabrizio Pellegrini Ai domiciliari Per aver usato Cannabis Per curarsi Dalla fibromialgia Che lo Attanaglia Andiamo adesso Avanti A leggere Sempre Il quotidiano Il centro Questa è la prima Delle edizioni Di Teramo Bimba morta Per un malore Del papà Si torna Sull'incidente Che è costato La vita A una bambina Di nove anni Oggi funerali A Basciano Altra vittima Intanto Una donna Investita A Bellante E poi Sempre per quanto Riguarda La cronaca Nera La cerimonia Funebre A San Nicolò Strazante Addio a Nicola Sul feretro La maglia Da calciatore La maglia Delle città Di Teramo L'ultima squadra Con cui ha giocato Intorno a migliaia Di persone In lacrime Per dare L'estremo saluto A Nicola Puliti Il ragazzo Di 29 anni Morto In un incidente Stradale Con il suo Scooter E unirsi Allo straziante Dolore Dei familiari Appunto Ci sono state Tantissime persone Nelle cronache Il sindaco Di Atri Bancarotta Ha chiesto Il giudizio Per Astolfi E poi In Giulianova Tassa di soggiorno Il sindaco Chiede aiuto Agli hotel Nelle cronache Teramane Debiti e crematorio Team Scontro totale Fra Ranalli E Brucchi Andiamo adesso A vedere L'ultima Delle quattro prime Pagine provinciali Delle centro L'edizione di L'Aquila Avezzano Sulmona Tunnel pedonale Riapre dopo sette anni Il titolo di apertura Con l'Audi All'Aquila Per il Tapirulan Collemaggio Piazza Duomo Nelle cronache Sposte in procura In Avezzano Regione contro La Santa Croce Battaglia E sempre Dalle cronache Avezzanesi Donna picchiata 87 anni Dagli scippatori A Sulmona Centro storico Blindato Alla giostra La sfida Diventa Europea Andiamo a centropagine La rassegna Ad alta quota L'orgoglio Della pastorizia Nella festa Degli ovini Sul Gran Sasso Tanto sole Tanti giovani Alle prese Con gli immancabili selfie Tanti allevatori E più di 11.000 capi Esposti Alla rassegna Degli ovini Di campo imperatore Che festeggia L'edizione numero 57 Tra la tradizione E la novità Grande affluenza Di visitatori In località Fonte Macina Dove hanno Trionfato I prodotti tipici Locali Cambiamo testata Ora passiamo Al messaggero Andiamo a vedere La prima pagina Dell'inserto Abruzzo Del quotidiano romano Notte bianca Pescara ci riprova Il titolo di apertura Il comune sfida Il meteo Stasera Isola pedonale Di 10 km Sul lungomare Le vie laterali Sosta gratis Nelle aree di risulta E allo stadio Adriatico Confermate le star Gli stadio Carotone Placido E poi la notizia Che riguarda L'autostrada 24-25 Dal ministero Disco Rosso Al progetto Toto Non c'è la parola Fine Ma certo La risposta Del sottosegretario Benedetto Della vedova Chiarisce che Finora il ministero Non prevede varianti Per le autostrade Di Toto E poi Andiamo a centropagina Con questa fotonotizia Equitalia pignora Se stessa L'Aquila Legale accusa Non voglio pagare Equitalia è arrivata A pignorare se stessa Pur di non pagare Lo racconta L'avvocato Torrelli E poi La cronaca Furgoni Bar E Chalet da incubo Sequestrati Quintalli di alimenti Controlli dei NAS Sulla riviera Bloccato un carico Di kebab A Carsoli Questa L'operazione Dei carabinieri Del nucleo Antisofisticazioni E poi Da Teramo Falciata da un'auto Muore abbellante Ieri una donna Di 63 anni Anna Maria Cicconi È stata falciata Da un'auto Ed ha perso La vita Andiamo di spalla La sanità Riforma degli ospedali Forza Italia Si può ancora Tornare indietro Sceglie l'ospedale Annunziata Di Sulmona Quello declassato Ad ospedale di base Forza Italia Per lanciare La sua battaglia Sanitaria Post decreto In prima fila La senatrice Pelino Il consigliere Iampieri E soprattutto L'ex presidente Commissario Gianni Chiodi Che non ci sta A sdoganare L'idea Che sia stato lui L'artefice Dei tagli Intanto È stata annunciata Una battaglia Popolare Per Sulmona E per gli altri Nosocomi Penalizzati Nel Traglio Basso Multepazze Arriva la sanatoria A Lanciano Il comune Corre ai ripari Per quanto riguarda La violazione Della ZTL Ben 720 Multe In tre giorni Il 2, 3 e 4 giugno Il più delle volte Alle stesse persone Cheppur erano in regola Con i permessi Poi le multe Si sono diradate Perché gli interessati Hanno segnalato La situazione anomala Dal 17 di agosto Sarà attivato Uno sportello Del comune Per verificare La regolarità Delle multe Elevate Andiamo nel taglio alto Adesso Andiamo a vedere Concludiamo La lettura Della prima pagina Del messaggero Abruzzo Il giorno e la notte Silvestri torna a pescare Svela il segreto Della paranza E poi per lo sport Lanciano Sarrende Anche il sindaco Alza bandiera bianca E dice Abbiamo fatto Tutto il possibile Sempre per quanto riguarda Lo sport Invece il calcio di serie Con il Pescara Ok per Guzmix Mentre si avvicina Trotta In attacco Oltre all'argentino Bergessio Piace L'irlandese Lafferty Giovedì Vertice con la Juve In vista Una nuova operazione Andiamo a vedere Adesso Un'altra testata regionale La città Il quotidiano Della provincia Di Teramo Tre morti In tre giorni Il titolo di apertura Incidenti stradali Prosegue Lascia di sangue Lungo le strade Teramane Poi vedete Nella fotonotizia Bellante Anziana investita Sulle strisce Davanti al bar 2000 E poi Oggi L'ultimo addio Alla piccola Diana Ancora Folla Ai funerali Del giovane Sposo Questo per quanto riguarda La cronaca La cronaca Nera Nel taglio alto A Tortoreto Ferragosto 2016 Al Sayonara Toga Parti L'edizione 2017 Notte bianca Sul lungomare Poi Ad Albadriatica Pronto il nuovo stello Alla stazione Gestito dalla Proloco Ascerne di Pineto Quattro alluvioni In sei anni Scatta la denuncia E poi Abbiamo l'editoriale Di Alessandro Misson Bretelle Ocappio Questo è il titolo Si parla Ovviamente Del progetto Di variante Sulle autostrade A 24 A 25 Presentato Dal gruppo Toto D'autostrada Dei parchi E della notizia Che è arrivata ieri Di una Diciamo Bocciatura Da parte Del ministero Che sarebbe Stata così Resa nota Nel corso Di un'interpellanza Presentata Da Gianluca Vacca Deputato Del Movimento 5 Stelle Lasciamo Le prime pagine Regionali Adesso Apriamo Lo spazio Dedicato Al Nazionale Partiamo Dal Corriere Della Sera Migranti Il piano B Aiuti alla Grecia E confine blindato Agli scenari Dell'Unione Europea Se fallisce Il patto Con la Turchia Turchia Che in questo momento È un fronte caldo Dopo il fallito Golpe E la Diciamo Pulizia Che sta facendo Erdogan Dei suoi Nemici E poi L'Olimpiade A centropagina Con questa bella Fotografia Di Rio De Janeiro L'inaugurazione Dei giochi Il mondo A Rio Per il grande Inizio E poi Sempre per quanto Riguarda lo sport Il Milan Diventa cinese A Berlusconi 740 milioni Di euro Nella nuova Cordata C'è un fondo Statale Di Pechino Questo per quanto Riguarda Il calcio Di Serie A Invece adesso Torniamo Agli esteri A distinguere Capire La guerra Di religione Dell'Isis E l'editoriale Di Antonio Polito Andiamo Sulla Repubblica Via libera Al referendum I ribelli PD Pronti Al no Cassazione Ok Alle firme Alle urne Il 13 O il 20 novembre Speranza Noi contro Serrenzi Non cambia L'ictalicum Poi ancora A centropagina La cerimonia D'inaugurazione Delle Olimpiadi Le Olimpiadi In Brasile Rio Caccia i primi ori Cinque Le carte Azzurre Da giocare E poi Torniamo Invece Alla cronaca Jihadista Arrestato Ma non è un terrorista Può colpire Per l'Isis Non ci prova Napoli Scontro Tra procura E Egip E poi Un altro articolo Nel taglio basso Dalla Sicilia A Torino Per un posto Io precaria Beffata Dopo 30 anni Parla uno Delle persone Che protestano Appunto Per i problemi Legati Al lavoro Andiamo Sul messaggero Isis Emigranti Preso Il capo E il titolo Di apertura Sgominata Nel casertano Una banda Di trafficanti Di esseri umani Sette stranieri Arrestati Li guidava Un tunisino Affiliato Alla Jihad Per gli investigatori Era pronto A colpire In Italia E poi Andiamo a Roma Bufera Muraro Dopo il caso Buzzi Movimento 5 Stelle Pensa al piano Bigri Lini fanno quadrato Sull'assessore Ma il direttorio Prepara Una alternativa Nel taglio Nel taglio basso Il Milan Passa i cinesi Per 740 milioni La stretta di mano A Villa Certosa Berlusconi Resta presidente Onorario Andiamo Sulla stampa Preso Il boss Jihadista Dei Barconi In Germania Le indagini Sugli attacchi Di Hansbach E Wussburg Portano A un reclutatore Saudita Del califo Blitz Nel casertano Tunisino Fedela Lisi Gestiva il traffico Dei clandestini Poi la notizia Che abbiamo già visto Su altre testate I cinesi Si comprano Anche il Milan Dunque Le due sponde Del calcio Milanese Inter e Milan Sono affidate A proprietà Cinesi Il sole 24 ore Padoan Nella legge di bilancio Poche misure Tutte per la crescita Intervista Al ministro Dell'economia Nella manovra Priorità Il sostegno Degli investimenti E della produttività Per le banche Non serve Un backstop Pubblico Agevoleremo Le ristrutturazioni Aziendali Così Il ministro Le borse Borse in rally Sul lavoro Degli states A luglio Balzo Dei nuovi contratti Più 255.000 Tra industrie e servizi E soprattutto Dei salari Più 2,5% Piazza affari Positiva Quasi Il 2,5% Wall Street record Tassi BTP Ai minimi Questo è il riassunto Della giornata di borsa Vissuta ieri Andiamo sul fatto quotidiano Adesso La Libia vuole 5 miliardi L'alleata Il governo di Serrai Chiede a Renzi Il rispetto Del trattato Del 2009 Ma i soldi Non ci sono Arrivano Da una tassa Sull'ENI Poi dichiarata Illegittima E lo scontro Sulla RAI A centropagina Nel mirino Di Cantone Le nomine Illegittime Su 21 Anticorruzione Non solo I neodirettori Di Tg2 Tg3 Scelti Da IDG Senza Job Posting Andiamo avanti Libero A cosa serve L'euro Il modo legale Per portare soldi Il modo legale Per portare soldi All'estero Record di capitale In fuga Dell'Italia 292 miliardi La moneta unica Ha fatto bene Solo ai tedeschi E poi C'è colui C'è col cane Colpiti dalla stessa Malattia E salvati dal Labrador Spritz Una notizia Davvero particolare Il tempo Bloccati i furbetti Del vitalizio Noi ricorsi Degli ex parlamentari Volevano i contributi Pur avendo Un altro incarico Ecco Di oltre 2500 politici Che hanno Gli assegni E costano 200 milioni All'anno Nel taglio alto Così smontano Il gioiellino Railway Nel 2015 La società Ha distribuito 26 milioni Di utili Ora esuberi Ed esternalizzazioni A centropagine Invece L'Atac Tre episodi Dal primo giugno L'azienda Mezzi troppo vecchi L'Atac Va in fumo Ogni mese Brucia Un bus L'unità Ora Di scarica capitale Roma Mai così sporche Nel caos Amministrativo Il peggio Dei grillini Nei primi 40 giorni Raggi si tiene Anche l'assessore Che telefonava Abuzzi La procura Indaga sugli scandali Ovviamente L'unità Quotidiano Che fa riferimento Al partito Democratico Attacca Il neo Governo Dei 5 Stelle A Roma Sono davvero Tante le polemiche Che si stanno Sosseguendo Sul caso Dell'assessore Ai rifiuti E poi C'era una volta Il Milan Di Berlusconi Da oggi Si parla cinese Con questa foto Di Berlusconi Tra i trofei Vinti Dal Milan Nella sua epoca Il manifesto Forse il titolo Più bello E più significativo Per quanto riguarda La vicenda Della vendita Del Milan Ai cinesi Cin cin Sulla fotonotizia Che raffigura Lo stadio di San Siro Nel derby Tra Inter E Milan E poi A Copacabana Sfila La contestazione Ai giochi Rio 2016 Al debutto Brasile Tra crisi E divisioni Il secolo XIX 20 miglia Assalto al confine Tensione Lacrimogeni Profugo investito Da un treno Toti Il governo Intervenga Un centinaio Di migranti A nuoto Fino a Mentone Via ai respingimenti E poi Rio L'Olimpiade Della Speranza Con questa bella Fotografia Della cerimonia Di apertura La Gazzetta Del Mezzogiorno Adesso Pronto a colpire In Italia Il cedista Capo di un traffico Di migranti Arrestato a Caserta Sui social Esaltava le stragi Dell'Isis Indagini partite Dalla Puglia Andiamo avanti Sull'avvenire La brusca frenata Il fatto L'Istat Segnala una nuova flessione Dell'attività delle imprese A giugno Meno 1% In un anno E parla di rallentamento Della crescita Cala la produzione Industriale Ripresa a rischio Per le famiglie E poveri Ora si muovono Le regioni Chiudiamo con L'osservatore romano Il mondo ha bisogno Di perdono La visita Ad assisi Delle papa Vedete Papa Francesco In questa fotografia Il raccoglimento All'interno Della Porziuncola Lasciamo I quotidiani Nazionali E passiamo Allo sport Con la gazzetta Dello sport La fine di un'era Venduto Il Milan E cinese Colpo di scena Conclusivo Berlusconi Cede la società Ad una cordata Guidata Da Yongung Lee Preliminare Firmato entro l'anno Il closing E c'è Già il nome Del nuovo amministratore Delegato Che sarà Fassone E poi L'Inter Una batosta Allarmante Seisberle Dal Tottenham Buon primo tempo Con Banega e Perisic A segno Poi il crollo Se a uno Male Icardi Leggelo Col club Continua Per Mancini Prove di rinnovo Poi abbiamo Le Olimpiadi In primo piano Gli azzurri A caccia dell'oro Numero 200 Un obiettivo storico Per la prima giornata Nibali Ed altri Sono Insomma Le frecce All'arco Della nazionale Azzurra Andiamo Sul corriere Dello sport Milan Oro cinese Berlusconi Vende per 740 milioni Si chiude Dopo 30 anni L'era del cavaliere In rosso nero Ceduto il club Ad un fondo di stato Di Pechino Garantiti sul mercato 350 milioni In tre anni E 100 Subito Per il mercato Di questa stagione E poi Il tonfo dell'Inter Tottenham Da incubo A Oslo Allarmante 1 a 6 Icardi ma in partita Diego Costa Offerto a Nerazzurri E Napoli E poi Conti bianconeri Tesoro Juve 190 milioni Dalle eccessioni Ancora I preliminari Di Champions Porto Roma Spalletti Avverte Non è facile E poi Giochi Subito Azzurri Con Nibali E Fiamingo Il ciclista Siciliano E tra i favoriti Anche Nella spada femminile Si può andare sul podio Nel tiro a segno C'è la Zublasing Tutto sport Witzel Matuidi Decide Pjanic La Juve Sceglie il prossimo acquisto Che dipenderà dal ruolo Che ricoprerà il bosniaco Regista Omezzala L'operazione più semplice Da chiudere È quella legata Al belga Dello Zenit Ma continuano i contatti Con il PSG Per il francese Congelata La cessione Di limina I tedeschi In entrata Rispunta La pista Di Avarà In retroscena Intanto Dell'addio Di Pogba Sempre per quanto riguarda La Juventus Il Milan Cio Berlusconi Dopo 30 anni Arrivano i cinesi Per 720 O 740 milioni Insomma Cambia davvero poco E poi Inter Altre 6 sberle Ai Mancini Clamoroso flop Ad Oslo Contro il Tottenham La proprietà cinese Molto irritata Il tecnico È di nuovo A rischio E poi il Torino Taxidis Scatenato Ma servono altri colpi Il centrocampista Greco Si presenta dimagrito E con tanta grinta in più Ora caccia i rinforzi Per l'Europa Oggi In Austria E gradata Sfidano gli inglesi Dell'All City Diretta Sulla 7 Alle ore 16 Questo per quanto riguarda Anche lo sport nazionale Adesso Come di consueto Apriamo Lo spazio dedicato Al meteo Con il nostro esperto Giovanni De Palma Di abruzzometeo.org Buongiorno a te Giovanni Buongiorno Alfredo Buongiorno a te E a tutti i telespettatori Il tempo nel weekend Anche in previsione Della Notte Bianca Di Pescara Insomma c'è tanta attenzione Sulle condizioni meteo A te Eh sì Sì Alfredo Ma si tratta Questa di una situazione Caratterizzata Da instabilità diffusa Perché Siamo interessati Saremo interessati Dall'arrivo Di un nucleo Di aria fresca Proveniente dalla Francia Che in queste ultime ore Sta dando luogo A un deciso peggioramento Del tempo Sulle regioni settentrionali Ma anche su parte Di quelle centrali Quindi su Toscana Umbria E Marche E nelle prossime ore Il peggioramento Si estenderà Anche sulla nostra regione Quindi È previsto un ulteriore Aumento della nuvolosità Ci sarà spazio A dei roesci A dei temporali Inizialmente Sul settore occidentale Sulla Marsica Nell'Aquilano Sulle zone montuose Però i fenomeni Poi Con il passare delle ore Tenderanno Ad interessare Anche il settore orientale E la fascia costiera Risultando localmente Di forte intensità Caratterizzati da Roesci Piuttosto intensi Questa situazione Tenderà ulteriormente Il peggioramento Tenderà ulteriormente Ad intensificarsi Soprattutto Nel pomeriggio Sera Proprio a causa Dello spostamento Verso Le restanti regioni Centro-meridionali Di questo nucleo Di aria fresca Che favorirà E manterrà attive Condizioni di instabilità Quindi c'è Un'elevata probabilità Di rovesci E di manifestazioni Temporalesche Anche durante Le ore sereali Notturne Fino alla mattinata Di domenica In particolar modo Sulla fascia orientale Della nostra regione Segnatamente Nel pescarese E nel chietino Dove la probabilità Di fenomeni È maggiore Nella giornata di domani Invece Assisteremo A una graduale Attenuazione Della nuvolosità Ci saranno probabilmente Delle schiarite Non al primo mattino Ma dalla tarda mattinata Soprattutto sulla fascia orientale Mentre i temporali Tenderanno a svilupparsi Sulle zone montuose Per poi spostarsi Verso il settore occidentale Quindi sulla Marsica E nell'Aquilano Tuttavia Tuttavia Nel corso della giornata In particolar modo Nel tardo pomeriggio Sera E in nottata Non si escludono Nuove addensamenti Nuove precipitazioni Anche lungo la fascia orientale Della nostra regione Quindi un weekend All'insegna Dell'instabilità Con venti Settentronali In rinforso E temperature In diminuzione Poi pian piano Da lunedì La situazione Tenderà Gradualmente A migliorare Anche se nel pomeriggio Potranno ancora svilupparsi Dei temporali Sul settore Centro occidentale Della nostra regione Ma c'è da segnalare Alfredo Come avevamo annunciato Nei giorni scorsi Un probabile Nuovo peggioramento Tra mercoledì E venerdì A causa del passaggio Però di una Veloce perturbazione Ecco Rispetto a quanto Annunciato Nei giorni scorsi Il peggioramento Dovrebbe essere Fortunatamente Più veloce E quindi Abbandonare Probabilmente La nostra penisola Nel corso Del fine settimana Comunque Si tratta Questa Di una situazione Che valuteremo Gradualmente Nei prossimi giorni Alfredo Insomma Possiamo riassumere Giovanni Che Chi vorrà andare Alla notte bianca Dovrà portarsi L'ombrello Insomma Munirsi Di attrezzatura Adeguata A resistere Alle piogge Mi sembra Di capire Diciamo di sì Perché La fase peggiore Se così possiamo Camare Di questa situazione Sarà proprio Nella seconda parte Della giornata Nel pomeriggio sera Ma Data l'elevata Instabilità La presenza Di questo nucleo Di aria fresca Che Avrà il contributo Offerto Dal mar Adriatico Sotto forma Di umidità E di calore Quindi Tenderanno Svilupparsi Probabilmente Dei temporali Anche lungo La fascia costiera Quindi Dall Adriatico Centrale Tenderanno A spostarsi Poi Verso La fascia costiera Anche in serata Anche in nottata Almeno fino Alle prime ore Della mattinata Di domenica Quindi Il rischio Piogge Il rischio temporale In serata In nottata Sarà molto elevato Almeno Alla luce Dei dati attuali A nostra disposizione Ma l'avevamo già annunciato Nei giorni scorsi Che insomma Questa situazione Sarebbe Diciamo Stata Abbastanza Insidiosa Per Per la notte bianca Insomma Un tempo che certo Non agevola Però insomma Poi Pian piano La situazione Tenderà gradualmente A migliorare Ripeto Nella giornata Di domenica Ma ancor più Nella giornata Di lunedì Al freddo Eh sì Grazie Giovanni Per le consuete Delucidazioni Sulle condizioni Meteo Nella nostra regione Ovviamente Per essere sempre Aggiornati Basta andare Sul sito Di Abruzzometeo.org Eccolo qui Messo in onda Da Maurizio Daguì In regia Possiamo vedere Anche le pagine Facebook La pagina personale Di Giovanni De Palma E poi la pagina Di Abruzzometeo Eccola qui Grazie Giovanni Per essere stato Con noi Anche questa mattina Ovviamente Ti auguro Una buona giornata E un buon fine settimana Grazie Alfredo Una buona giornata E un buon fine settimana Anche a te E a tutti i telespettatori Di TV6 E allora Noi ci fermiamo Per il break Pubblicitario E poi torniamo Con la seconda parte Di Mattino 6 Nuovi insieme Per la seconda parte Di Mattino 6 E buongiorno Di nuovo E allora Torniamo Sui quotidiani Regionali Ripartiamo Dalla pagina Abruzzo Del centro Trasporti E strategie Ryanair Propone Sette nuove rotte Parte la trattativa La regione vorrebbe Monaco Berlino Catania Roma Blitz Della procura Intanto Alla saga Andiamo a vedere Più da vicino Quali sono le rotte Attuali E quali quelle proposte Milano Linate Bergamo Francoforte Londra Bruxelles Barcellona Dusseldorf Bucarest Torino In autunno Poi Tirana E Spalato Queste le destinazioni Attuali Le rotte proposte Da Ryanair Sono Dublino Est Midlands Birningham Valencia Marsiglia Vilnius Varsavia E Cracovia La regione Vorrebbe Monaco Roma Berlino E Catania Vedremo Se si troverà Un accordo Tariffe bus Sconti Ma anche rincari Sempre per quanto riguarda I trasporti Previste Aggevolazioni Per studenti E pendolari Di tua L'aumento È per i biglietti Allora andiamo A seguire insieme Il servizio Abbonamenti E pullman Gratis Per gli studenti Con Isee Familiare Sotto i 15 mila euro E sconti Del 50% Per disoccupati E inoccupati Che frequentano Corsi di formazione Della regione Abruzzo Oppure sono iscritti Ai programmi Di inserimento Lavorativo Come ad esempio Garanzia Giovani Queste le agevolazioni Previste Nella bozza Della terza parte Della riforma Del trasporto pubblico Locale Che lunedì passerà Al vaglio Della commissione Competente E poi martedì Probabilmente Approderà In consiglio regionale Per la prima volta Nella storia Le famiglie Meno abbienti Dalle fasce Di povertà In su Non pagheranno Per esempio Per i propri figli Per andare a scuola Così come I disoccupati Che prendono I mezzi pubblici Per recarsi A un corso Di formazione Piuttosto che Attività finanziate Da regione In alcuni progetti Penso è obiettivo A garanzie ai giovani Per andare nel proprio Posto di lavoro E di studio Di formazione Di riqualificazione Per il periodo Del progetto Non pagheranno E' una rivoluzione Che inizia Ad essere introdotta Man mano Che le risorse Disponibili Finanziarie Appunto si rendono Disponibili Per poter poi Trasferire Queste maggiori risorse O queste disponibilità A favore Degli utenti Dei cittadini Ma non sono tutte Notizie positive Quelle annunciate Dal consigliere delegato Ai trasporti Camillo D'Alessandro In programma Infatti C'è un aumento Del 15% Del costo Dei biglietti E degli abbonamenti Per far fronte Agli 8 milioni Di euro Di penalità Per non aver rispettato Nel 2012 E nel 2013 Il parametro Del 35% Tra costi E ricavi Del trasporto pubblico Dunque Se la media Di un abbonamento Annuale E' di 200 euro Bisognerà sborsare 30 euro in più Per circolare Con i mezzi pubblici Accanto agli aumenti Anche la razionalizzazione Delle corse Stop Alle sovrapposizioni Ai bus Che viaggiano vuoti O confino A 5 utenti Un taglio complessivo Del 5% Del chilometraggio Non lineare Ma selettivo In base alla mappatura Delle corse Fatta da Tua Per essere chiari Un costo di chilometro Di trasporto pubblico Locale in Abruzzo Deve costare Guarda la Lombardia Guarda il Veneto Siccome per quegli anni Ciò non accadeva Vuol dire che Noi dobbiamo incidere Su due fattori Diminuire i costi E lo stiamo facendo Con Tua Ma anche con gli altri Con la razionalizzazione Dei costi E aumentare i ricavi Per cui A fronte anche Di un aumento Minimo Del prezzo Dei biglietti E degli abbonamenti Salvaguardiamo Le fasce più deboli Continuiamo a parlare Di trasporti Autostrade Stop al progetto Toto Il ministero Solo manutenzione Questo è l'articolo Del quotidiano Il centro La risposta All'interpellanza Di vacca Dei 5 stelle Innesca La polemica politica Contro il presidente D'Alfonso D'Alessandro E' catena Lo difendono E' strada Dei parchi Replica Con quei lavori Tariffe più alte Del 5,7% Stessa notizia Che ritroviamo Anche sul Sul messaggero Autostrade Il governo Niente varianti Toto Rischio sismico Il sottosegretario Della vedova Risponde ai 5 stelle Il concessionario Più sicurezza E pedaggi Meno cari L'esultanza Di vacca e marcozzi Una bocciatura Senza appello Delle richieste Dell'imprenditore Vediamo il servizio E' una sonora Bocciatura Senza appello Quella che arriva Dal ministero Dei trasporti In merito Al progetto Di modifica Del tracciato Autostradale Abruzzese Relativo Alla A24 E A25 Oggi Rispondendo Alla mia Interpellanza Urgente Infatti Emerge Un quadro Molto più Nitido Di quanto Avvenuto Negli ultimi Due anni Delle posizioni In campo Ad affermarle Gianluca Vacca Deputato Del movimento 5 stelle Che proprio Oggi Ha discusso L'interpellanza La camera Il ministero Delle infrastrutture E dei trasporti Riferisce il parlamentare Ha di fatto Certificato La totale Mancanza Di qualsiasi Presupposto Normativo E amministrativo Al progetto Di modifica Del tracciato Confermando Che gli unici Lavori possibili Sono appunto Quelli di manutenzione E messa in sicurezza Dell'attuale percorso Per un investimento Totale Stimato Di circa Un miliardo Di euro Inoltre Nella ricostruzione Che viene fatta Nella risposta Fornita oggi Si evince Come il ministero Nella corrispondenza Con la società Iniziata nel 2013 Abbia sempre Chiesto Alla società Strada dei parchi Di fare un piano Economico Finanziario Esclusivamente Per i lavori Di manutenzione E messa in sicurezza Senza nessuna Variante al tracciato Poiché appunto Queste non sono possibili Nell'ambito Della convenzione In essere In base alla normativa Vigente Dall'altro lato La società invece Avrebbe sempre inserito Anche le varianti Nel piano Ostinandosi A ripresentarle In tutte le occasioni Utili Ma vedendosele Sempre respinta Giunge Gianluca Vacca Resta da chiedersi Aggiunge Sara Marcozzi Capogruppo Del Movimento 5 Stelle In Regione Abruzzo Per quale motivo Il presidente D'Alfonso Abbia tanto caldeggiato La realizzazione Di questa devastante opera Ora non ha più alibi Se ne faccia una ragione Il ministero Ha confermato Quello che in Regione Dicevamo da tempo Il progetto È in contrasto Con direttive europee E leggi statali Che consentono Solo opere di messa in sicurezza E non nuovi tracciati Ci auguriamo A questo punto Che si interrompa Quella che sembrava Un'ingiustificata azione Di sponsorizzazione Dell'opera Da parte del governo regionale Che si interrompa Il tendenzioso dibattito Sugli organi Di informazione locale E che il presidente D'Alfonso Comincia a curare Le reali esigenze E priorità Dei cittadini abruzzesi Salute Lavoro Società E trasporto pubblico Tutte questioni Sulle quali Il governo regionale Sta operando Scelte Scellerate Dunque questa La posizione Dei 5 Stelle Andiamo avanti Con la lettura Della pagina Abruzzo Del messaggero D'Alessandro Ogni nostro risultato Vale la legislatura Ma ci giochiamo Tutto su aeroporto E mobilità veloce Abbiamo fatto tanto Mentre Movimento 5 Stelle Aspettava la disgrazia Il centrodestra Sperava che i problemi Non si risolvessero Così Camillo D'Alessandro Insomma Risponde Alle polemiche Di queste ore E poi per il welfare Trovati 200 milioni Passa il piano sociale Il documento Era stato contestato Dalle opposizioni Per la iniziale mancanza Di copertura finanziaria Poi si è trovata L'intesa Dopo diverse ore Di trattative Marcinelle Targa Di letto Manoppello In Belgio Il giorno del ricordo Si sposta in Belgio La tragedia avvenne L'8 agosto Del 1956 Sono state celebrate Le quattro giornate Previste in Abruzzo Dal primo al 4 di agosto E ci sarà invece adesso Una targa Di letto Manoppello Che ricorda Appunto La tragedia Che costò la vita A 60 minatori Abruzzesi A 262 Minatori Nel complesso Andiamo avanti Con la lettura Della pagina Delle pagine Abruzzo E torniamo Sul quotidiano Il centro Walter Tosto Compra Belleli Energy Chieti L'azienda si espande Nel Mantovano Con la ditta Che lavora Nel settore Degli idrocarburi Adesso ci spostiamo Invece Sulla città Per vedere Anche La pagina Abruzzo Del quotidiano Della provincia Di Teramo Blitz dei Nas Tra gli chalet Della Movida Quattro attività sospese Altrettante denunce Controlli più serrati Anche sull'abuso Di alcol L'operazione State tranquilla La vediamo In questo servizio Carabinieri Del Nassi In azione Nell'ambito Dell'operazione State tranquilla 2016 Sottoposti a controllo 21 stabilimenti balneari 14 aziende Agrituristiche 6 pescherie 4 caseifici E 6 autonegozi Intesi Come i camioncini Che vendono Panini e bibite Di cui sono piene le riviere Nei pressi dei locali Del divertimento Il bilancio complessivo Ha portato all'erogazione Di sanzioni amministrative Per oltre 35 mila euro Il valore delle strutture Per le quali è stata disposta La sospensione Ammonta 2 milioni di euro Il valore della merce Sottoposta A vincolo È di circa 85 mila euro In particolare In particolare Sono stati sospesi Gli esercizi Di due autonegozi Colpiti da provvedimento Dell'asle di Pescara Per le carenze Igenico-sanitarie Nella produzione E conservazione Di alimenti Con contestuale Denuncia Dei proprietari E sequestro Di 50 chili Di alimenti Stoccati In ambienti Insalubri E a temperature Di formi Rispetto a quelle Previste Per la conservazione 300 chili Di prodotti Di origine Animale E vegetale Sono stati sottoposti A vincolo In due bar Ristoranti Allestiti Presso stabilimenti Balneari Della costa Adriatica Poiché In cattivo Stato di conservazione Le due strutture Per questo motivo Sono state chiuse Dalla ASL In provincia di Teramo In una pescheria Con annessa Attività di gastronomia In assa Hanno denunciato I titolari Per tentata Fraude Nell'esercizio Del commercio Ovvero Per aver posto In vendita Pietanze Preparate Con prodotti Ittici Di origine Congelata Senza darne Alcun avviso Ai consumatori Sospesa L'attività Di un caseificio Nell'Aquilano Mentre in provincia Di Chieti In un ristorante Annesso Ad uno stabilimento Balneare I militari Hanno rivenuto Circa 50 chili Di prodotti alimentari Di origine animale Carenti Di informazioni Sulla tracciabilità Per gli stessi È scattato L'immediato Vincolo sanitario Con avvio Alla distruzione Per i locali Carenti Dei requisiti Strutturali E genico-sanitari L'autorità Competente Disposto In immediato Sgombero E in utilizzo Infine Combinata Sanzione Per 6700 euro Ad uno stabilimento Che nel corso Di una serata Con intrattenimento Musicale Ha somministrato Bevande alcoliche Dopo le ore 3 L'attività Rientra nella volontà Di prevenire E reprimere Binge drinking La cosiddetta Abbuffata alcolica E andiamo avanti Con il giornale Passiamo alla pagina Di Pescara La notte bianca In primo piano La grande festa Inizia le 21 Ma c'è l'incognita Del tempo Confermati Fino a ieri sera Gli stadio Carotone Le esibizioni Di Placido E Papa Previsto l'arrivo Di oltre 200.000 persone Cuzzi Nessun altro rinvio Se piove Abbiamo ascoltato Giovanni De Palma Nella fine Della prima parte Della trasmissione Annunciare appunto Che ci saranno Probabili Temporali Nel corso Del pomeriggio E della sera E dunque Munirsi di ombrelli Per andare Alla notte bianca Di Pescara Intanto La città si prepara Divieti In mezza città Per l'evento Riviere 32 strade Limitrofe Chiuse Dalle 18 Fino alle 6 Di domani Schierati 50 vigili Per i controlli Qui vedete Insomma Una cartina Di tutti i parcheggi Di tutti i punti Caldi Con i divieti Per quanto riguarda La riviera Pescarese Andiamo Andiamo avanti Con la lettura Del giornale Cambiamo argomento Adesso Ritroviamo La notizia Che riguarda Il Estate Tranquilla L'operazione Dei Nassi Che hanno chiuso Due ristoranti Poi Scene davvero Davvero particolari Per quanto riguarda Pescara Purtroppo Scene di inciviltà Nuda Sopra un vaso Per fare La pipì La donna È stata poi Fermata Dalle forze Dell'ordine Portata via Dalla polfer L'episodio Accaduto Nei pressi Della stazione Di Pescara E poi Arrestata 42enne Semina il caos Sul treno Aizze Il cane Tenta di mordere I poliziotti Scendiamo Nel taglio basso Solo tre deleghe Contestate A Borgia Inchiesta Sulla rielezione Del presidente Della BCC La difesa Nessuna indagine Sui bilanci Della banca E per quanto riguarda Il tentato Omicidio Tentato omicidio Con l'anticoagulante Il figlio di Lorusso Resta in carcere Il tribunale Della esame Dell'Aquila Ha respinto Il ricorso Presentato Dalla difesa Per ottenere La scarcelazione Di Michele Grosso Finito Al San Donato Perché accusato Del tentato omicidio Del patrino Assieme alla madre Daniela Lorusso Anche lei in cella È un colombiano E domiciliare Assoltato Per picchiare La vittima Il caso Sacro Cuore I fedeli Si rivolgono Al Papa Salvi Battesimi E comunioni I parrocchiani Pronti a organizzare Una fiaccolata E a chiedere Udienza Al Ponteficio Anche il cuore Immacolato Di via Vespucci E santuario Ma ha mantenuto I servizi E poi Depuratori L'arta Ripubblica I dati E si scusa Dopo la GAF Sui valori Errati Prano Il trattamento Di mobilità Inderoga Per tre mesi Lo ha stabilito Il CICAS Il comitato Di intervento Per le crisi Aziendali E di settore Con votazione Unanime Di tutti i componenti La decisione Che a carattere Di eccezionalità Riguarda 41 ex Dipendenti Della società Rimasti fuori Dopo le procedure Concorsuali È bene chiarire Ha detto L'assessore Alle politiche Del lavoro Andrea Gerosolimo Che il comitato Si è trovato Di fronte A un caso Eccezionale Con questo spirito Ha deciso Di dare il via libera Alla mobilità L'eccezionalità È stata giustificata Dalla grave Crisi occupazionale Degli ex lavoratori Che ormai dura da mesi Ma soprattutto Dall'impegno formale Assunto direttamente Dal sindaco Alessandrini Nel corso Della seduta Che entro La fine del mese Di agosto La società attiva Avvierà L'iter Per la stabilizzazione Degli addetti Avviando le procedure Per la selezione pubblica Per l'assunzione Di personale La decisione Del CICAS Su attiva È arrivata Dopo che il Ministero Del Lavoro Ha confermato In una nota ufficiale Parere favorevole All'utilizzo Delle somme Del 5% Per la concessione Di un periodo Di mobilità In deroga In favore Degli ex lavoratori Precari Della società attiva Nello specifico Saranno massimo Tre i mesi Di mobilità In deroga Riconosciuti E comunque Non oltre La data Del 31 dicembre La misura Può essere concessa Anche retroattivamente In favore Di quei lavoratori Il cui periodo Di inapsi È terminato Nel 2015 Stesso discorso È interessato anche Euroimpianti Group Di Avezzano Ai cui dipendenti È stato riconosciuto Un periodo Di cassa integrazione In deroga Dal 4 gennaio Al 2 aprile 2016 Sempre a valere Sul fondo Del 5% Nella stessa seduta Nella stessa seduta Infine sono state accolte Tutte le richieste Di cassa integrazione In deroga Pervenute Fino al 4 agosto Si tratta Nello specifico Di 18 istanze Di imprese Per un totale Di 119 lavoratori E per un impegno Di spesa Di 169 mila euro Restiamo nell'area Metropolitana E ci spostiamo Sulle pagine Dedicate a Montesilvano Donna indagata Un altro caso In città Anziana Raggirata Da uno sconosciuto Truffa Da 950 euro La signora si fa convincere Da un uomo mai visto prima E paga il computer portatile Che nessuno aveva ordinato Poi Spiccioli per i ladri All'assalto Della cassaforte Nel distretto Della Asl E ancora Ecco i consigli Per evitare Di essere imbrogliati A domicilio Consigli da parte Delle forze dell'ordine Ovviamente Non aprire Agli sconosciuti E non fargli entrare in casa Difidare degli estranei Che bussano alla porta In orari inusuali Non mandare i bambini Ad aprire la porta Di fidare di coloro Che vogliono Verificare le banconote Prelevate in banco In ufficio postale O la regolarità Del libretto di pensione Attenzione a non chiamare Utenze telefoniche Fornite Dagli interessati Perché dall'altra parte Potrebbe esserci Un complice Tenete a disposizione Accanto al telefono Un'agenda Con i numeri Dei servizi Di pubblica Utilità E poi Per tutte le altre cose Chiamare sempre Le forze dell'ordine Risoluzione contrattuale Anticipata Tra deco Terza bocciatura Il tar Da ragione Al comune E poi Nel taglio basso Street art Domanda entro lotto E la forestale Pineta accessibile Con gli ingressi AS Andiamo avanti La pagina di Francaville Dell'area metropolitana Occhio elettronico Ai semafori San Giovanni Tiatino Multe salate A chi passa col rosso Il comune stima Entrate per quasi 1,5 milioni Di euro A Spoltore Entro il 31 Le richieste Per lo scuola Bus Andiamo avanti Spoltore Ucciso junior Il cane Delle quartiere L'amico a quattro zampe Dei bambini Stato trovato morto In una busta Francavilla Stasera c'è briga Se non piove Ospite del Michetti Off Il rapper scoperto Dal talent Della De Filippi La pagina di Pene Popoli Dell'Alta Val Pescara Appenne ferma La nuova tacca In magazzino da due anni L'apparecchio acquistato Dalla ASL Costato 250 mila euro Resta impacchettato Si usa invece Il vecchio tomografo Che ha bisogno Di manutenzioni continue E poi Il maltempo La notte bianca di Pene Rinviata al 20 di agosto In provincia Riaperte le strade Per Rigopiano E Vestea A San Valentino Cinque generazioni unite Dalla nascita di Azzurra E poi A Manoppello Beatrice Di Lallo E la reginetta Scelta per Miss Adriatico Il Ferragosto Popolese Domani la festa Dell'emigrante Andiamo adesso Sul Sul messaggero Per vedere Qualche notizia Dall'Aquilano Equitalia pignora Se stessa Per non pagare L'apertura Della pagina Dell'Aquila Singolare controversia Con l'avvocato Aquilano Torrelli Il legale Doveva avere 65 mila euro Dopo una lite tributaria La vicenda Preso le mosse Nel 2003 Per due cartelle Rimaste in evase In quanto non erano Mai state notificate Dopo la battaglia Di natura legale Durata 11 anni Al professionista Sono state riconosciute Le spese E poi Nonni sottotiro Gianni Politi Testimonial Contro le truffe Agli anziani E abbiamo visto In precedenza Proprio la notizia Che arrivava da Montesilvano In questo senso Attenzione Operaio Precipitato Sigili al cantiere Gli ispettori Asl Rilevano Irregolarità Elettricista Infortunato A gravi lesioni Al torace Alla colonna vertebrale Notizia che arriva Da Paganica E poi il lavoro Col center Maratona Fino a nottefonda I 234 dipendenti Hanno seguito La trattativa Su Whatsapp Arrivano segnali Che fanno ben sperare E poi La soprintendenza Chiesta L'archiviazione Per la Vittorini E questa La notizia Che riguarda Appunto La soprintendenza Nella loro relazione Evidenziano Una omissione Progettuale A carico Dell'ingegnere Antonello Salvatore Che a seguito Di un esposto Li manda sotto inchiesta Per diffamazione Ma per il PM Simonetta Ciccarelli I quattro esperti Della soprintendenza Vanno scagionati L'Aquila RFI Ha avviato gli scavi Senza tener conto Dell'area archeologica Antiche sepolture Il Comitato Sviluppo Territoriale Accusa Rispettate troppo tardi Le prescrizioni Della soprintendenza La legge La legge prevede Verifiche preventive Con georadar E indagini Geognostiche Lo scontro Sulla Santa Croce Denuncia per l'acqua E' proprio il caso Di dire Scrive il giornale Che è scoppiata La guerra delle acque Tra regioni Nella società Santa Croce di Canistro Secondo Lanza L'ingegnere Camillo Colella Rappresentante della società E' stato denunciato Alla procura di Avezzano Per aver continuato A captare acqua Senza autorizzazione E poi Riapre il tunnel Colle Maggio Duomo Senza Tapirula Tornerà agibile Nelle prossime ore Dopo sette anni Il tunnel di collegamento Fra il parcheggio Di Colle Maggio E Piazza Duomo Nel taglio basso Valle dell'Aterno Via la pista ciclabile Per ora si pedalerà Da Santeria a Fos Un progetto Che nel complesso Prevede 80 km Di pista ciclabile Andiamo alla pagina Di Avezzano Sul Mona Maxi sequestro Di kebab Sull'autostrada La polizia ha bloccato 70 quintali di carni Che viaggiano Su un mezzo Con targa prova Sul posto Per i controlli La ASLE La guardia di finanza E il comandante Paolo Prosperi Intensificheremo I controlli Poi a Sul Mona Frigo a 26 gradi Scatta lo stop Per un quintale Di panini Ad Avezzano Ma almeno Il marito Una russa Va a processo Andiamo adesso Sulla pagina Di Chieti Restando sempre Al messaggero Rifiuti Cresce la differenziata Ma ci sono ancora I furbetti In città si raggiunge Anche il 62% Giù la produzione Di anidride carbonica Presentati I dati dell'arta Sulla qualità dell'aria I livelli Non sono allarmanti Bevilacqua esulta In discarica È stato conferito Meno pattume Scattano le multe Per 25 Cittadini Andiamo avanti La pagina Di Lanciano Vastortona Multe pazze Il comune Rimedia Al pasticcio Per quanto riguarda La ZTL 720 Le sanzioni Sotto Ricorso Attivato uno sportello Per verificare La validità Delle contravvenzioni Per chiere in regola Sarà lente A chiedere L'annullamento Al prefetto L'assessore 50 targhe Non inserite Nel cervellone Elettronico Nel taglio basso A vasto Desiati Si dimette Largo ai giovani Per quanto riguarda La politica vastese Poi Sempre da vasto E cerchiati Da 12 cinghiali Paura Per madre E figlia I cani di una famiglia Mettono in fuga Gli ungulati Ma restano feriti E codici A lanciare L'allarme rosso Passiamo adesso Rapidamente Alla città Il quotidiano Della provincia Di Teramo Cronaca nera In primo piano Anziana investita Sulle strisce pedonali Anna Maria Cicconi Di 63 anni Travolta Da una 66enne Di Giulianova Di fronte Al bar 2000 A bellante Stazione Poi Ancora Andiamo avanti Frontale a Basciano Gli automobilisti Hanno cercato D'avvisarlo Il padre Alla guida Avrebbe invaso La corsia Del tir Molto prima Dell'impatto Costato la vita Alla piccola Diana Oggi L'ultimo saluto Alla bambina Nella chiesa Di San Flaviano Indagato Ieri pomeriggio Dal sostituto Andrea De Feis Il papà E' iscritto Nel registro Degli indagati Altra notizia Altra notizia Purtroppo Di cronaca nera I funerali A San Nicolò Lacrime E applausi Per l'ultimo addio A Nicola Puliti Un migliaio di persone Alla messa Per il 29enne Morto in un incidente A meno di un mese Dal matrimonio Il dolore E la disperazione Della famiglia Dalla fidanzata Valeria E la vicinanza Dei compagni Del team Città di Teramo E dei soci Del circolo Tennis Poi il comune Si cala le braghe Sul cineteatro Presentato il nuovo Bando rimodulato Al ribasso Secondo le richieste Inascoltate Un anno fa Nel pacchetto Anche il bar Questo per quanto riguarda La città di Teramo Poi fedeli in marcia In attesa Della tendopoli Verso il santuario Di San Gabriele Andiamo in provincia Del Rio Non sa che farsene Delle bretelle La notizia L'abbiamo visto In precedenza Le polemiche Sul progetto Toto E poi pronto Il nuovo ostello Alla stazione Terminati i lavori Della Proloquo Ad Alba Adriatica Andiamo ancora avanti Scuola bus Privatizzazione dannosa Giulianova La Ciafardoni Attacca l'amministrazione L'hanno capito Dopo cinque anni La pagina Di Roseto Pineto A3 Silvi Esposto in procura Sull'alluvione Spalato il fango I cittadini danneggiati Chiedono di chiarire Le responsabilità Nulla di eccezionale Quarta inondazione Negli ultimi sei anni I cittadini chiedono La testa Di chi doveva fare E non ha fatto Passiamo adesso Allo sport Torniamo sul quotidiano Il centro Andiamo a vedere L'Abruzzo L'Abruzzo Sport Per quanto riguarda Il Pescara Ecco il nuovo Pescara Gaston Silva Nel Mirino Per rinforzare La difesa Dopo l'ungherese Guzmix E' arrivato L'Uruguayano Del Torino Il difensore In Granata Sembra Chiuso da Moretti Ma ha bisogno Di giocare Per restare Nel giro Della nazionale I biancazzurri Si sono fatti avanti Con il club Di Cairo Se parte verra Potrebbe arrivare Grassi Del Napoli Non si blocca La trattativa Per l'attaccante Bergessio Allora si spinge Per Trotta Mazzotta Intanto verso Frosinone Domani Punto Frosinone Comola Vincente Sfiderà Il Delfino In Coppa Il 13 di agosto E poi Due listini Per le gare Caselinghe Contro le Big I prezzi Saranno più alti Un biglietto Di curva Arriverà A costare 20 euro Alla Proltronissima 200 Resi noti I prezzi Per i biglietti Delle partite Di campionato Intanto Stasera A Castel di Sangro Staffetta Manai Nicastro Nel test Contro il Selta Vigo Prove generali In vista Dell'impegno Di Coppa L'albanese Sarà squalificata E quindi Oddo Proverà Anche l'ex Juve Stabia Nel ruolo Di punta Di punta Centrale Poi le altre Notizie Che riguardano La Serie A Che abbiamo Visto in Precedenza Con il Milan Venduto Ai Cinesi Torniamo Allo sport Di casa Nostra Lanciano Renta Senza Calcio Marcianese Prima squadra La società Del quartiere Cittadino Forse vestirà I colori Rossoneri In prima Categoria Intanto La Virtus Social School Dei Maio Viene presa Dirti Soccer Tornano I deferimenti Sono sei Per l'Aquila Calcio Ancora Grane Per questa inchiesta Sono arrivati Nuovi deferimenti L'Aquila Calcio È stata deferita Per responsabilità Oggettiva Visto che aveva Le dipendenze Ercole di Nicola In qualità Di responsabile Dell'area tecnica Di Nicola È accusato Di aver contribuito A manipolare Sei gare Per quanto riguarda La Lega Pro Il DS Lupo Teramo Gironi Difficile Ma ricco Di stimoli Per il Teramo La vigilia Della quarta michevola estiva Che lo vedrà impegnato domani Alle 17 sul campo Del Pineto A tenere banco Però sono le reazioni Dopo l'inserimento Nelle girone B Di Lega Pro Quello del Nord-Est Contro avversari Del calibro Di Parma Venezia Modena E Padova Dunque non sarà facile Ma l'obiettivo Dei play-off Comunque È la portata Del Teramo Andiamo al rugby Di Serie B Ecco il calendario Pacani-Cavezzano Derby All'ottava giornata Per il basket di A2 Roseto Prende il pivot Paci Ci diamo con il ciclismo La mia seconda vita Rabbottini Ho perso tutto Per colpa del doping Il corridore pescarese Riparto da zero Voglio tornare più forte di prima Ho avuto una carriera In discesa Andava tutto bene Al primo momento negativo Ho ceduto alla tensazione Dell'epo Ho passato due anni Di inferno Queste le parole Di Rabbottini Che continua La mia compagna mi ha lasciato La mia famiglia mi ha allontanato Ora però sono ripartito I primi risultati Sono incoraggianti Ancora Ho sbagliato L'ho ammesso E ho pagato Quello che voglio Una seconda possibilità Per dimostrare Che posso tornare Ad alti livelli Di Luca E tutta un'altra storia Queste alcune delle Dichiarazioni rese Nell'intervista Pubblicata Dal centro Nel taglio basso Chiudiamo con il ponismo A Tagliacozzo Brilla la stella Di Adugna E poi un'americana Pescara Rinviata il 22 di agosto Domani si correrà A Piane D'Archi E tutto per quanto riguarda La rassegna stampa Mattino 6 torna lunedì Alle ore 7 Invece la nostra informazione Oggi Alle 14 Alle 19 Alle 23 Con il TG6 Grazie Per essere stati con noi Vi auguro una buona giornata E un buon fine settimana Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.